Il dolore di Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island, ho perso il figlio che aspettavo Sofia Calesso ha vissuto il dramma dell'aborto L'ex concorrente di Temptation Island, a cui partecipò con il fidanzato Alessandro Medici, ne ha parlato in un'intervista rilasciata a più donna Sofia Calesso partecipò a Temptation Island due anni fa. Decise di prendere parte alla trasmissione di Canale 5 con il fidanzato Alessandro Medici per tentare di porre rimedio alla mancanza di fiducia reciproca e all'eccessiva gelosia che rischiava di distruggere la loro relazione Uscirono dal programma dopo soli cinque giorni. I due stanno ancora insieme, ma nell'ultimo periodo hanno dovuto fare i conti con un grande dolore Sofia Calesso ha perso il bambino che aspettava. Sofia Calesso racconta il dramma dell'aborto in un'intervista rilasciata a più donna, l'ex concorrente di Temptation Island ha raccontato che quando ha scoperto di essere incinta ha provato una gioia immensa Era all'ottava settimana. Ha potuto assaporare questa felicità solo per 15 giorni, poi la situazione è precipitata, per ora deve escludere la possibilità di rimanere incinta Il dolore per la perdita del suo bambino, si è acuito quando i medici le hanno detto che per il momento deve escludere la possibilità di restare incinta di nuovo Al suo fianco, che è Alessandro Medici, che ha provato in tutti i modi ad aiutarla a superare questo momento difficile E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video